Grazie per la visione. Grazie per la visione. Bucate la pelle dei cotechini con piccoli fori ben distanti fra loro, quindi immergeteli avvolti e chiusi ciascuno in un telo, in un pentolone contenente acqua fredda. Ricetta di cucina cotechino con sformatini. Mettete il coperchio e portate a bollore leggero. Fate lessare per due ore e mezzo da quando l'acqua inizia a bollire, mantenendo la fiamma bassa. Sciacquate intanto le lenticchie pulendole da eventuali impurità e lessatele per 20 minuti in acqua salata e aromatizzata con il pepe e le bacche di ginepro. Nel frattempo rosolate rosolate nell'olio la cipolla tritata. Unite l'alloro, la passata di pomodoro e fatela bollire per 10 minuti a calore vivace. Insaporite la salsa di pomodoro con una presa di sale e una macinata di pepe e aggiungete le lenticchie per farle insaporire per qualche minuto. Trasferite le lenticchie dal pomodoro in quattro stampini individuali e fate compattare per 8 minuti in forno già caldo a 200 gradi. Sfornateli e sformateli su un largo piatto da portata. Servite il cotechino ancora molto caldo tagliato a fette non troppo spesse circondate dagli sformatini di lenticchie. Questi i dati della nostra ricetta di cucina cotechino con sformati. Difficoltà media. Tempo di preparazione 30 minuti. Tempo di cottura complessivo 3 ore.